Mobilitazione unitaria dei sindacati Cigelle e Cisle Will sul tema della sanità in Abruzzo. L'avvertenza si chiuderà lunedì 20 settembre con una manifestazione dinanzi alla sede dell'assessorato alla sanità. Nel corso di un incontro a Pescara sono stati illustrati i motivi della manifestazione. Ascoltiamo Paola Puglielli, segretario generale FP Cigelle, Giuseppe De Angelis, segretario generale Will FPL, e Vincenzo Mennucci, segretario generale Cisle FP. È arrivato il momento di dire alla regione che deve sedersi e parlare con le organizzazioni sindacali. A partire dalla riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete territoriale, che deve partire dai bisogni di sostegno alla salute dei cittadini, deve porre la questione della prossimità e della presa in cura e in carico dei pazienti e degli utenti, deve investire in prevenzione, deve dare risposte contrattuali ai lavoratori e alle lavoratrici della sanità pubblica abruzzese nel suo complesso. Cerchiamo oggi di ricomporre ciò che la politica negli anni ha spezzettato in mille rivoli, esternalizzando servizi, dando tutele, salario e diritti diversificati alle lavoratrici e ai lavoratori, pur se sono professionisti. Intanto noi riteniamo che ci sia un'applicazione integrale del contratto di lavoro ARIS-AIOP dal quale è scaturita tutta l'avvertenza, perché un contratto firmato ormai un anno fa, nell'ottobre 2020, ancora oggi non vede la sua applicazione. Nell'avvertenza ovviamente è stato inserito tutto il pezzo della sanità pubblica a 360 gradi, perché è ormai da tempo che chiediamo all'assessore alla Regione Abruzzo di entrare nel merito delle questioni riguardanti il fabbisogno del personale, di come si vuole organizzare i territori dal punto di vista sanitario, sia esso per il Covid sia per le malattie ordinarie. Oltre a questo chiediamo di finire una volta per tutte con la precarietà. Questo perché i dati IMSS dell'anno 2020 indicano un dato allarmante, e cioè nonostante l'immissione in ruolo di moltissime professioni sanitarie, seppur nella forma precaria per via dell'emergenza Covid, le ore lavorate risultano essere inferiori all'anno 2019. No, no.